Buongiorno a IWA 2016 Siamo qui con un 4.86 da Mark Newsom perché siamo contenti di annunciare che abbiamo completato il calibro di questa scuola in realtà abbiamo due nuove calibri il 20 e il 28 Un ricordo breve sulle funzioni principali di questa scuola Potremmo vedere il calibro che è ingratato con una molto particolare È un motivo orientale e è un amici della terra di Faison Infatti, Faison è il principale target della scuola con la scuola e il designatore voleva celebrare Il design molto particolare del top lever e l'introduzione della scuola che è molto nuovo in questo settore E altri dettagli importanti sono i superglossi barrelli e la scuola con la scuola con la scuola che è totalmente indietro E anche abbiamo introdotto il sistema 3 bloc per attraverso il barrel e un sistema molto nuovo triggato che rende la scuola molto crisp e veloce Quindi la scuola è molto bene proporcionata e l'introduzione di queste nuove due piccole gage enfatizzano l'elegance di loro già molto piccoli La scuola è una scuola Grazie.